buongiorno a tutti oggi mi trovo a cassarate e voglio mostrarvi questo ampio tre locali e mezzo entriamo e troviamo subito l'atrio di 9 metri quadrati circa l'appartamento ha una metratura di 80 metri quadri abbondanti subito sulla destra possiamo apprezzare la zona giorno molto ampia luminosa l'appartamento è stato recentemente ristrutturato possiamo apprezzare quest'ampia finestra che ci porta nel primo di quattro balconi totali ha già preinstallata la tenda da sole siamo in una zona molto vicina a cassarate a due passi dal lago dal padiglione consa e da tutti i servizi e negozi torniamo indietro e vi farò vedere la prima camera di 15 metri quadrati circa anche lei spaziosa e molto luminosa e anche in questo caso troviamo il balcone di 5 metri quadrati tornando indietro vi mostrerò la cucina che troviamo subito sulla destra cucina abitabile c'è spazio per installare un tavolo o dei diversi mobili anche in questo caso abbiamo un altro balcone cucina molto luminosa fornita di tutti gli elettrodomestici necessari dunque piano cottura in vetro ceramica frigorifero forno di ottima marca e lavastoviglie oltre la cappa nell'appartamento sono ammessi gli animali è fornito di caloriferi come riscaldamento posso mostrarvi sempre nell'atrio questo enorme armadio a muro molto comodo e subito sulla destra il bagno completo di lavabo bide specchiera wc vasca e un'ampia finestra anche in questo caso c'è anche la predisposizione per la doccia torniamo infine nella camera matrimoniale di 18 metri quadrati circa anche qui molto ampia e luminosa ci sono diversi posteggi blu in zona se volete venire a visionare questo favoloso appartamento di tre locali e mezzo non esitate a contattarci per il momento è tutto grazie ti affitto